Buongiorno, noi siamo alcuni studenti dell'indirizzo chimica, materiali e biotecnologie dell'Istituto Tecnico Settore Tecnologico Kennedy di Pordenone. Oggi andremo a disporvi la nostra esperienza di alternanza scuro lavoro svolta nei nostri laboratori. Andremo a disporvi le caratteristiche di una crema e di un tonico viso e come le abbiamo preparate. Più in particolare andremo a parlare di cos'è un'emulsione, di cosa sono i conservanti, di cosa sono gli addensanti, a cosa servono gli oli essenziali, gli additivi che vanno messi in una crema e il procedimento che abbiamo seguito per prepararla. Per il tonico andremo a spiegare cos'è, della differenza tra tonico e detergenti, della composizione e anche per questo il procedimento che abbiamo seguito per realizzarlo. La crema è un'emulsione. L'emulsione è una dispersione di un fluido sotto forma di minutissime goccioline in un altro fluido emiscibile. Le emulsioni sono miscele eterogenee formate da due liquidi che non si possono mescolare tra di loro, come acqua e grassi. Se noi proviamo ad agitare l'olio nell'acqua, le goccioline di olio si disperderanno nell'acqua, ma dopo un po' vedremo che queste tendranno a unirsi. Per evitare questo problema, e quindi per avere un'emulsione stabile, bisogna inserire una sostanza definita emulsionante, che eviterà la separazione delle due fasi. In un'emulsione, uno dei liquidi è disperso nell'altro in forma di goccioline. Il liquido disperso costituita la cosiddetta fase interna o fase dispersa, mentre l'altro liquido è definito fase esterna o fase disperdente. Esistono due tipi di emulsione. L'emulsione olio in acqua, o chiamata anche crema idrofila, perché affina l'acqua, presenta la fase acquosa disperdente, mentre la fase oleosa rappresenta quella dispersa. Sono le più diffuse e consentono di ottenere un effetto idratante veloce e poco unto, mentre le emulsioni acqua in olio, o crema lipofile, presentano la fase oleosa continua, mentre la fase acquosa, quella dispersa. Le emulsioni acqua in olio risultano più unte, tuttavia la fase disperdente, quella grassa, rende le emulsioni suscettibili a fenomeni in ossidazione in seguito alla sposazione ad agenti esterni, come la luce. Le emulsioni vengono stabilizzate grazie all'utilizzo di agenti emulsionanti, o sostanze tensiattive, che riducono la tensione superficiale della fase in cui sono meno solubili, favorendone la frammentazione in gocce. Gli emulsionanti sono quindi sostanze dotate di un certo grado di solubilità, sia in acqua, sia in olio. Gli emulsionanti non sono solo utilizzati nella cosmesi, ma anche come addittivi alimentari. Un esempio di emulsionante alimentare è la licitina, contenuta nel tuorlo d'uovo e ricavata dai semi di soia e semi di senape, che devono la loro proprietà emulsionante a una varietà di sostanze presenti nella mucillagine, che è la parte esterna del seme. I chelanti sono dei composti organici che hanno il compito di trattenere gli ioni che potrebbero interferire con l'emulsione. Esiste però anche una lista degli ingredienti dannosi. Li definiamo dannosi non perché siano tossici, ma perché non apportano alcun beneficio alla pelle e, con il passare del tempo, queste sostanze potrebbero rendere l'epidermide più sensibile o esporla a energie irritazioni. Per esempio le DTA. Le DTA è un composto molto utilizzato per neutralizzare gli effetti dannosi dei metalli pesanti sulla salute. Allora, perché è dannoso? La sigla DTA significa acido atilendi ammino tetracetico ed è un acido carbossilico. Però ne produciamo molto di più di quanto la natura riesce ad eliminarne naturalmente e questo lo rende un elemento molto inquinante. Inoltre, il composto, una volta in mare, potrebbe andare a smuovere i sedimenti di metalli pesanti che si depositano sul fondo di fiumi e mari, rendendoli così disponibili per i pesci e gli altri animali acquatici che potrebbero ingerirli. Nel campo della cosmesi sono classificate come conservanti tutte le sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico. Ma la definizione nella cosmesi differisce da quella utilizzata nel comparto alimentare in quanto non include altre sostanze atte a impedire o rallentare il deterioramento del prodotto come ad esempio gli antiossidanti. I conservanti che vengono aggiunti alla formulazione dei cosmetici per garantire l'integrità e la sicurezza nel tempo proteggono i prodotti dalla contaminazione batterica di funghi, lieviti e muffe presenti nell'ambiente, sulla nostra pelle ma anche nell'aria. La maggior parte dei cosmetici, specialmente quelli contenenti acqua, dopo l'apertura e il contatto con agenti esterni rimarrebbero inalterati per pochi giorni, deteriorandosi e diventando quindi pericolosi per il consumatore. La lista e le restrizioni d'uso dei conservanti sono continuamente aggiornati in funzione dell'innovazione tecnica e in caso di nuove valutazioni del rischio dei conservanti già presenti. I parabeni sono i conservanti più diffusi nei cosmetici. Tra gli ingredienti contenuti nei cosmetici la loro funzione è quella di impedire che il cosmetico irancidisca. Il loro compito è quello di proteggere i prodotti dalla formazione di batteri, funghi ed altre sostanze potenzialmente nocive per la salute. Il fatto che siano facili da produrre e non molto costosi ha fatto sì che venissero impiegati in grandi quantità all'interno di prodotti cosmetici ma anche alimentari e farmaceutici. Accanto a questi vantaggi però ci sono anche molte controindicazioni. Una di esse è la capacità di queste sostanze di penetrare a fondo all'interno degli strati della nostra pelle, rimanendo così nei tessuti per diverso tempo. Un componente importante delle creme sono gli addensanti, cioè sostanze in grado di aumentare la viscosità di un prodotto. Nelle addensanti vengono aggiunti cere che aumentano il punto di fusione e la viscosità del prodotto. È per questo motivo che in estate il prodotto finale, cioè la crema, risulta più liquida rispetto che in inverno dove la temperatura è più bassa. Un altro componente importante sono i gelificanti, che sono molto usati nella cosmesi per stabilizzare la fase acquosa delle emulsioni. Nelle emulsioni si usano spesso miscele di vari gelificanti, con caratteristiche diverse, perché sinergizzando funzionano meglio e la stabilità è più sicura. Ogni gelificante ha una sua caratteristica unica e conferisce una particolare texture al prodotto finale. Tra i più importanti gelificanti troviamo gli amidi naturali, le gomme, i carriagenina, i polimeri acrilici e i carbomer, che sono una famiglia di sostanze derivate dalle resine acriliche. Gli oli essenziali sono prodotti ottenuti per estrazione a partire da materiali vegetali e sono composti dalle vitamine, che sono un composto organico e un nutriente essenziale che un organismo richiede in quantità limitate. Le vitamine possiedono diverse funzioni biologiche. Nella cosmesi hanno funzione protettiva contro gli agenti esterni, regolatrice, ovvero garantiscono il buon funzionamento delle reazioni del nostro organismo, stimolante, ovvero stimolano l'attività del sistema immunitario e idratante. Poi sono composti dai principi attivi, che sono sostanze che possiedono una certa attività biologica. Nella cosmesi solitamente vengono usati i principi attivi con proprietà farmaceutiche, ovvero benefiche nei confronti di chi le usa, come le vitamine hanno funzione idratante e poi rimugorrente. I siliconi petrolati sono derivati dalla raffinazione del petrolio o del silicio e vengono usati nei cosmetici come filmanti, ossia vengono usati dalle aziende per ingannare il consumatore, poiché questi composti danno una piacevole sensazione di morbido e vellutato, facendo percepire la crema come di ottima qualità. Ma, oltre ad essere sostanti di origine petrolifera e non biodegradabile, i siliconi non sono amici della pelle, perché questo film impedisce la traspirazione della pelle, creando una pellicola invisibile che regala un aspetto levigato e una pelle più liscia al tatto. I petrolati sono degli idrocarburi, sostanze che derivano dagli scarti di raffinazione del petrolio. La glicerina, o glicerolo, è un composto organico che si trova nei lipidi, nei fosfolipidi e nei glicolipidi. Essa deriva dal metabolismo degli acidi grassi, ma industrialmente si ottiene dal processo di fabbricazione del sapone, oppure viene ricavata dai semi di colza, dall'olio di palma, da quello di soio oppure da quello di cocco. Si presenta come un liquido trasparente denso, in odore e dalle spiccate proprietà omettanti. Per questo trova uso in cosmetica, nell'industria farmaceutica e anche in quella alimentare. Le proprietà omettanti della glicerina permettono di idratare a fondo e di facilitare l'assorbimento di un qualsiasi prodotto nel quale essa è contenuta. Infatti, proprio per questo, è presente nella maggior parte dei cosmetici di principio attivo, oltre che in impacchi per il viso, balsami per capelli e creme per mani. All'inizio dell'esperienza c'è stata presentata la procedura con le relative annotazioni sui pericoli. Per prima cosa abbiamo pesato le varie fasi nella sala bilance e per poi riscaldare separatamente la fase A e la fase B a circa 75-80 gradi centigradi. Dopodiché abbiamo unito la fase A alla fase B utilizzando un turbo emulsore e di seguito unendo l'olio di avocado a circa 60 gradi. L'abbiamo aggiunto dopo perché è una sostanza termolabile e di conseguenza a temperature troppo elevate si sarebbe degradata. Dopo circa 3-5 minuti abbiamo iniziato a farlo raffreddare. A circa 25 gradi centigradi abbiamo unito la fase C. Per poi solubilizzare il profumo nella vitamina A e verificare infine che il pH sia circa 6 in quanto la crema non deve avere un pH basico. Il tonico è un prodotto che viene utilizzato come detergente dopo essersi struccati e lavati il viso. Ora vediamo la differenza tra latte detergente, tonico e acqua micellare. Il latte detergente ha una composizione fluida e lattiginosa e la sua azione sia detergente che protettiva. Il latte detergente struccante ha una base lipidica in grado di emulsionarsi con le impurità e i residui del make-up. L'acqua micellare ha una soluzione detergente a base acquosa che permette di rimuovere i residui di trucco e le impurità del viso. Il prodotto si basa sulla tecnologia delle micelle. Dopo il detergente bisogna applicare un tonico. Senza il tonico si rischia infatti di ostruire i pori della pelle e non far respirare la pelle. Gli oli essenziali che abbiamo utilizzato per preparare il tonico sono l'olio essenziale di camomilla, l'olio essenziale di tiglio, l'olio essenziale di fiordaliso e l'olio essenziale di calendula. La camomilla ha proprietà antinfiammatorie, cioè elimina rossori e infiammazioni. Il tiglio invece ha spiccate proprietà emollienti e rinfrescanti. Il fiordaliso ha proprietà astringenti e antinfiammatorie, soprattutto per quanto riguarda il contorno occhi. E la calendula ha proprietà antinfiammatorie, lenitive e idratanti. La preparazione del tonico, al contrario di quella della crema, è molto semplice. Infatti si divide in due fasi, la fase A e la fase B. Semplicemente si uniscono prima tutti gli ingredienti della fase A in un contenitore e in un altro quelli della fase B. Infine, dopo averli emulsionati per bene, si uniscono in un unico contenitore e si mescola. Il corso di formazione iniziale presente nel progetto Creme è stato molto utile anche al di fuori dell'esperienza di alternanza, in quanto, oltre a nozioni di ambito tecnico, abbiamo ricevuto anche informazioni molto utili riguardo alla quotidianità. Il progetto è stato molto interessante e ben gradito da tutti i partecipanti, sia dal punto di vista teorico che pratico, e i nostri tutori sono stati molto disponibili e esaustivi, rendendo l'esperienza più piacevole ed interattiva. Riteniamo che un progetto di questo tipo risulti utile per indirizzare e informare gli studenti riguardo alcuni degli sbocchi lavorativi nel campo chimico.